Salve, sono la professoressa Elisabetta Giorgi e intervengo per conto del direttore del Polo Don Orione di Fano. Sono vicaria e vicepreside all'Istituto Tecnico Industriale, un istituto che ha al suo interno due indirizzi di studio, l'indirizzo informatico e l'indirizzo meccatronico. Sono attivabili anche due articolazioni, energia e telecomunicazione. Ma quale è la motivazione per cui scegliere l'Istituto Tecnico Industriale? Ecco, per rispondere a questa domanda e descrivere la specificità del nostro Istituto Tecnico abbiamo scelto tre parole chiave, novità, idea e soluzione. Perché novità? I ragazzi e le ragazze che scelgono il nostro Istituto amano la novità, intesa come innovazione tecnologica. Prediligono le discipline tecnico-scientifiche e amano creare, progettare, inventare soluzioni tecniche innovative in ambito informatico e meccatronico. La seconda parola chiave attraverso la quale cerchiamo di illustrare la specificità del nostro Istituto è idea. Ci vogliono le idee, la fantasia, la creatività, l'originalità per attuare apparati d'avanguardia. Pensiamo a progettazioni di robot intelligenti o spazi innovativi come l'industria 4.0 o droni micro capaci di entrare in spazi minimali. Ed è la conoscenza fondamentale della matematica e della fisica assieme alle discipline tecniche come l'informatica, il coding, la tecnologia, il disegno 3D, l'elettronica, la meccatronica, eccetera, che permettono ai nostri ragazzi e le nostre ragazze di dare forma e concretezza alle loro idee. La terza parola chiave è soluzione. Bene, i ragazzi che frequentano l'Istituto Tecnico Industriale diventano dei progettisti, ovvero professionisti in grado di dare continue soluzioni tecniche. Questa è la loro natura, non sono esecutori di un lavoro aziendale, ma sono ideatori, progettisti, sono capaci di dare soluzione e forma alle idee, progettarle e realizzarle. Il problem solving è alla base dello studio di questo istituto, dall'analisi del problema alla progettazione e alla realizzazione del progetto. Ecco, in particolare, lo ripetiamo, gli ambiti su cui essi intervengono e amano proprio sentirsi chiamati in causa sono la meccatronica, l'automazione industriale, l'informatica, l'hardware, la telefonia, la robotica. Bene, passiamo ora alla specificità formativa della scuola. Come abbiamo già anticipato, due sono gli indirizzi, l'indirizzo informatico e l'indirizzo meccatronico, ma partiamo dall'indirizzo meccatronico in primis. Il profilo professionale in uscita è quello del progettista con competenze in organizzazione aziendale. I ragazzi imparano a progettare e realizzare parti di motori, parti e componenti di macchinari o parti di autoveicoli e le progettazioni sono sviluppate al computer con software dedicati per il disegno bidimensionale e tridimensionale, quali per esempio Inventor, giusto per fare una esemplificazione. I ragazzi programmano anche con software di controllo elettronico, da qui la dicitura dell'indirizzo meccatronico, ovvero meccanica, elettronica e informatica assieme. Ecco, nella disciplina di meccanica e meccatronica programmano infatti centri di lavoro automatizzati, robot industriali e braccia robotiche. La nuova frontiera proprio della meccanica e meccatronica è la robotica su cui il nostro istituto prepara i ragazzi. Bene, ma passiamo al secondo indirizzo, l'indirizzo informatico. Il profilo in uscita è quello del programmatore informatico. I ragazzi imparano e approfondiscono tutti gli ambiti dell'informatica, programmazione, sistemistica, hardware, lo studio delle tecnologie informatiche e pertanto diventano proprio dei veri e propri specialisti del settore. Pensate che il piano di studi ministeriale riserva non alcune ore alle discipline di informatica, bensì 16 ore delle 32 settimanali. E questo impianto consistente di 16 ore di studio delle discipline informatiche è riservato solo agli istituti tecnici di tipo industriale. Ma cosa studiano i ragazzi e le ragazze? I linguaggi di programmazione come Java, JavaScript, C++, Python, PHP, SQL, eccetera. Progettono Android, progettono sistemi di elaborazione dati, le reti di telecomunicazioni e i sistemi di sicurezza della rete. Producono software, realizzano siti, realizzano app per dispositivi mobili. Ecco, gli indirizzi che abbiamo illustrato entrambi garantiscono una specifica formazione tecnica sulla base di una solida formazione umanistica, linguistica e anche culturale. La scuola è accessibile a tutti e a tutti gli alunni del primo biegno vengono forniti gratuitamente libri e anche un tablet. Per ultimo, apriamo, diciamo, il discorso alle prospettive post diploma. È chiaro che chi frequenta il nostro istituto matura una valida preparazione culturale che lo apre al mondo diversitario ma nel contempo anche al mondo del lavoro. In qualità di responsabile di area per il settore, progettazione, produzione, controllo qualità, eccetera, in virtù proprio di competenze in organizzazione aziendale che ha maturato durante il percorso quinquennale. Al termine del percorso, quindi, qualunque scelta sarà possibile. Possono inserirsi nelle numerose aziende del territorio con le quali la scuola è da sempre in forte sinergia e continuo dialogo, oppure possono proseguire di studi presso tutte le facoltà universitarie.